L'Italia oggi quindi deve affrontare la duplice sfida di uscire da 6-7 anni di crisi finanziaria e allo stesso tempo affrontando l'eredità dei problemi che aveva da prima. Questi sono fatti arcinoti ma nel valutare lo sforzo e la direzione, la coerenza della politica economica del Paese credo che siano fatti di cui non possiamo dimenticarci. E che la situazione sia difficile ce lo dice l'evidenza recente, nel primo trimestre di quest'anno il PIL è tornato a contrarsi tra detti e lavori potremmo dire ma questo è l'errore statistico, è un errore statistico però pesante perché purtroppo ha il segno meno davanti.